Della fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilari Blasi si è parlato in ogni dove. Scontato dire che i salotti che si sono occupati di più dell'affaire Totti Ilari sono stati quelli di Rai 1 e di Canale 5. Ma stasera la questione è emersa anche in un contesto, per così dire, inaspettato. Del gossip più succoso dell'anno si è infatti parlato, seppure di sfuggita, in occasione dell'ultima puntata di Carta Bianca, il programma di approfondimento politico condotto su Rai 3 da Bianca Berlinguer. Nello specifico, ad esprimere un'opinione sulla coppia, o per essere più precisi, su uno dei due membri, è stato lo scrittore e alpinista Mauro Corona. Il fumantino commentatore di Carta Bianca non ha avuto mezzi termini per, Er Pupone, e ha commentato. Ho sempre ammirato Totti come sportivo. Ma penso che due persone che si separano per i più disparati motivi dovrebbero avere l'accortezza, la dignità e l'orgoglio di salvare l'amore che c'è stato. Ci sono anche dei bambini. Infierire così non è bello. I Rolex, se dovessi divorziare, al massimo mi porterebbero via le motoseghe. Corona, ovviamente, ha fatto riferimento alla tanto chiacchierata intervista a fiume che Totti ha concesso qualche giorno fa sul Corriere della Sera. Sul quotidiano, Totti ha riversato molto del suo livore contro l'ormai ex moglie, rivelando dettagli particolarmente scottanti che alcuni hanno definito decisamente fuori luogo. In particolare, l'intellettuale ha citato il racconto secondo cui Ilari avrebbe sottratto dalla cassaforte dell'allora marito, per ripicca, i suoi amati Rolex. Una scelta, quella di Ilari, che ha immediatamente scatenato la risposta di Totti, che alla ex ha nascosto le sue preziose borse, Bianca Berlinguer, ad ogni modo, non ha voluto approfondire più di tanto la questione. Non c'è nemmeno stata discussione in merito e si è subito passati all'argomento successivo.